Torna la neve nell'Aretino con possibili fiocchi anche in città. Nella giornata di venerdì 12 febbraio è infatti previsto l'ingresso di masse d'aria fredda di origine continentale alle quali si associeranno nel tardo pomeriggio e in serata nevicate sparse sino a bassa quota in particolare sui settori appenninici e centro meridionali della Toscana. La sala operativa unificata permanente della protezione civile regionale ha così emesso per la giornata di venerdì un codice giallo per neve che interesserà quasi tutta la regione con validità dalle 18 sino alla mezzanotte quindi previste deboli nevicate sparse dal tardo pomeriggio e in intensificazione in serata neve inizialmente a quote collinari nelle zone interne e appenniniche 200-400 metri possibili nevicate poi anche nei capoluoghi delle province di Arezzo e Siena e con minor probabilità anche su tutti gli altri capoluoghi compreso Firenze. I dettagli e i consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione Allerta Meteo del sito della regione toscana.